Siete cosa ne penso? Ci ha fatto tre Family Day, io sono personalmente assolutamente contrario. Io, Simone Pillò... No, è un blef, non è un matrimonio qualitario. Per quale motivo è un blef? Per la trice? No, ma se non firmano la ritengo una proposta sbagliata, quindi ho un'opinione diversa sulla matrimonio. Dal 19 gennaio è possibile firmare per il referendum Sì, matrimonio e qualitario per le coppie LGBT+, sul sito www.matrimonioegualitario.it Abbiamo intervistato alcuni politici. Guardate chi è a favore e chi è contro. C'è da stupirsi. Sono del comitato promotore e del referendum sul matrimonio qualitario. No, è un blef, non è un matrimonio qualitario. Per quale motivo è un blef? Senatrice? Avrei dichiarazione? Continua. Voteremo, chieda Bianca. Senatrice, perché dice che è un blef? Senatrice? Perché dice che è un blef? La proposta? Il referendum non è un blef. Infatti Monica Cirinà scappa e non dà spiegazioni. Guardate il post di Monica Cirinà. Solo a settembre era favorevole al referendum sul matrimonio qualitario fatto in Svizzera. Riesco con così tanto entusiasmo a questa battaglia che invece nel mio partito, pochi minuti fa, un esponente importante del PD parlava e dice ma tu scendi a quella p***a testualmente. Cioè se non mettiamo la parola uguale davanti a questa parola, matrimonio, noi tutto il resto che facciamo è rivendicazione. E io mi sono stancato di considerare uguaglianza la rivendicazione. Tommaso Cerno, senatore del PD, aderisce al referendum. Gabriele Piazzoni, segretario nazionale Arcigay, sostiene il referendum e dichiara Ogni iniziativa che punti a realizzare la piena uguaglianza merita la nostra attenzione e il nostro sostegno. Ho visto che avete lanciato sulla gorra per quanto riguarda il partito appunto varie proposte. Noi pensiamo che visto che la politica con il suo DDL che è stato bocciato, attualmente o fra un anno, possiamo avere i numeri per portare una legge e farla votare a favore dei diritti del LGBT? La strada è molto stretta, vediamo. In Senato il DDL omebintrasfobia è stato bocciato con applausi a larga maggioranza. Chi parla di proposte di legge al posto di referendum sa bene che non ci sono i numeri. Andando ad abrogare quelle parti che la differenziavano dal matrimonio e quindi noi andiamo a rendere una legge che darà alle persone lesbiche, gay, bisessuali e trans i stessi identici diritti del matrimonio. Fabrizio Marrazzo, portavoce partito gay LGBT+, è il primo firmatario del referendum sì matrimonio egualitario che renderebbe le unioni civili di coppia omosessuali uguali al matrimonio. Per questo referendum che ha quell'articolo che impedisce alle unioni civili di diventare matrimonio egualitario, lei è favorevole, voterebbe a favore o contrario ad una situazione del genere. Ma io penso che questa materia non sia da referendum perché andare a togliere la legge sulle unioni civili significa poi magari trovarci senza una legge. Ma le unioni civili non verrebbero abrogate, semplicemente verrebbero poste con l'articolo che impediscono che le unioni civili sia a stare. Ma non sarebbe meglio arrivarci con una legge? Anche Laura Boldrini, deputata del PD, ci propone una legge in alternativa al referendum, ma anche lei tace sui numeri in Parlamento. Il voto del Parlamento asserato ci potrebbero essere su un argomento del genere, su temi del genere. Sì, ma comunque se noi togliamo col referendum questo, si crea solo un vuoto. Il referendum sì in matrimonio egualitario, non lascia alcun vuoto normativo. Laura Boldrini non spiega e se ne va. In caso di accoglimento del referendum non ci sarebbe alcun vuoto normativo. Il comaventi delle unioni civili come riformulato garantirebbe l'estensione della disciplina del matrimonio alle unioni civili. Inoltre il quadro politico attuale non garantisce l'approvazione di una legge sul matrimonio egualitario. Salvatore Simioli, responsabile giuridico di Arcigay, ci conferma che il referendum non lascia alcun vuoto normativo. Pazzesco che ancora ci si rifiuti di prendere atto del fatto che la famiglia è cambiata e che ogni formazione familiare ha il diritto di essere tutelata dallo Stato. Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle, autrice della legge sul fondo per le vittime LGBT+, aderisce al referendum. Non sono favorevole, quindi non vuole che non firmerà. Non sono non firmerà, ritengo una proposta sbagliata, quindi ho un'opinione diversa. E come mai non si viene sbagliata? Perché ritengo che il matrimonio sia un matrimonio per un uomo o una donna. Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ex ministro delle comunicazioni, non aderisce al referendum. Io mi auguro che questa iniziativa possa raccogliere un grande successo nella raccolta delle firme e mi auguro quindi che questa mia posizione possa trovare seguito nel centro-destra e in Forza Italia innanzitutto. Elio Vito, deputato di Forza Italia, ex ministro dei rapporti con il Parlamento, aderisce al referendum. Il referendum da 19 e per riferirsi che le unioni civili diventano matrimonio. Andrea Ostellari, senatore della Lega, tra i principali oppositori al DDL e omobintransfobia, dice no al matrimonio egualitario. Nonostante in Italia sia stato fatto un importante passo in avanti grazie al riconoscimento delle unioni civili, il percorso iniziato non può dirsi concluso. È il motivo per cui, dico sì, al referendum sul matrimonio egualitario. Barbara Masini, senatrice azione e più Europa, aderisce al referendum. Lei servirebbe sì per il matrimonio egualitario. Il matrimonio è per i tutti i resti che chiedi. Quindi lei è favorevole? Non sono contrario, parliamo. Giovanni Toti, Coraggio Italia, ex Forza Italia, è disposto a parlarne. Cosa del nuovo referendum sul matrimonio egualitario? Cosa ne pensa? Scusi, ma adesso... Mario Monti, ex premier, non vuole parlare di matrimonio egualitario. E lei cosa ne pensa? Beh, lo sapete cosa ne penso? Ci ho fatto tre Family Day. Io sono personalmente assolutamente contrario. Io, Simone Pillon... Simone Pillon, senatore della Lega, organizzatore del Family Day, non aderisce al referendum. Come Comitato per il referendum sì matrimonio egualitario, lavoriamo in modo trasversale con tutti i partiti ed invitiamo i parlamentari che non si sono espressi o che hanno dato parere contrario a confrontarsi con noi per chiarire ogni dubbio, per marciare insieme per i diritti, specialmente con chi in passato è già stato al nostro fianco. In questi giorni abbiamo inviato un appello a tutti i parlamentari. Per rendere il matrimonio egualitario realtà vai sul sito www.matrimonioegualitario.it e fai la differenza. Firma per i diritti.